Come è la scelta? In maniera molto responsabile, molto seria e ho trovato veramente un gruppo molto sano con tanti punti di riferimento, giovani che giocano in serie da tanto tempo, quindi sì la fascia è sul mio braccio però mi piacerebbe che ci fossero più riferimenti perché le giovani vanno responsabilizzate. Ci vuole sacrificio e si raggiunge qualsiasi obiettivo, non importa il nome, tante volte il risultato arriva per tutta una serie di cose che vanno un po' oltre al valore tecnico e calcistico di una giocatrice. Io torno a ripetere, ho trovato veramente un gruppo sano e molto motivato che lavora da tanto insieme e si vede e quindi insomma il punto di partenza è già veramente buono. Io scelgo Sassuolo per quello perché comunque mi piacciono le sfide, è vero ho vinto tanto e ho vinto in contesti diversi da un Bardolino che era la forza più forte del campionato a un Tavagnaco che aveva un progetto un po' come può essere quello di Sassuolo. Quindi io vorrei oggi a quasi 30 anni tornare a vincere e insomma regalare qualche gioia a questa società. Arrivo con l'obiettivo di fare bene e di arrivare lo più lontano possibile. Beh, a livello di squadra, a livello di gruppo ho trovato delle persone veramente accoglienti e fantastiche, cioè mi sono sentita subito a casa e sto benissimo. Beh, 80 in una stagione direi bene, no non lo so quanti gol ho fatto, in realtà non li vado a contare, però ho fatto gli ultimi due anni con pochi gol e quindi quest'anno spero di farne di più.